Ciao a tutti ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Inter-Juventus Allora, domani questo qui è una partita speciale È il derby d'Italia Io l'Inter non la posso proprio vedere È la squadra, probabilmente una delle squadre in Serie A che odio di più L'Inter, uno dei nostri rivali peggiori Sono andato pure alla partita dell'Inter contro il Tottenham E per dire 1-0, quindi un po' di godura Però domani speriamo di vincere ovviamente Perché è fondamentale vincere domani Se vogliamo avvicinarsi al decimo scudetto Basta vincere domani e non prendere gol Qui e lì come contro il Genoa Che se stai vincendo non puoi rilassarti Se la partita non sta finendo tipo al novantesimo Ti può rilassare se stai riportando 4-0 Almeno ne pigli uno Ma non puoi rilassarti con 80 minuti, 70 minuti E pigli due gol dal Genoa E lì sta proprio in situazione emergenza Perché lì il Genoa poteva segnare Però pure due traverse mi pare Quindi domani se segniamo tipo 2-3 gol Non dobbiamo metterci lì a rilassarci Perché se un momento ci rilassiamo Fa 4-2-3 gol l'Inter E prendiamo la partita Quindi speriamo che possiamo battere l'Inter Se possiamo battere il Milan Che è forte e più forte dell'Inter Questa stagione possiamo battere l'Inter Comodamente Quindi speriamo di andare là e vincere a San Siro Lo abbiamo già fatto la settimana scorsa Battendo il Milan Quindi possiamo comodamente battere l'Inter E vincere due partite su due a San Siro E poi ripetere all'Orivento Stadium Gioca mincata Ma domani è fondamentale vincere Speriamo di non fare queste figuracce Andiamo là Diciamo che vincere E poi ci fanno malissimo 3-0, 4-0 Dobbiamo vincere e basta Comunque Io penso che finisca 2-1 Juve Prendo che segni Ronaldo Lukaku e Bibala Come si lega giù nei commenti Le vostre petizioni Anzi no Bibala è fuori Quindi penso che segni Ronaldo Lukaku e Chiellini Come si lega giù nei commenti Le vostre petizioni Senza di league Sarà dura Quindi speriamo di non fare errori in difesa Che ci portano a perdere la partita Oppure a prendere gol Difendiamo E andiamo là a segnare E vinciamo questa partita Comunque Il video sicuro è qui Caso di Ronaldo Porcivi sempre C'è come vincere questa partita Perché è fondamentale Vincere questa partita E non perdere punti Ma secondo me Vinceremo lo stesso Ciao Porcivi sempre